per voi proprio quale preludio di questa serata questo mix di danze molto molto particolare danze di gruppo facciamo un applauso alle nostre brave belle ballerine new dance allora un grazie di cuore alla commissione dei festeggiamenti in onore di san giovanni battista santo patrono di questa frazione giarrese che ha visto sicuramente dei solenni festeggiamenti in onore del santo momento clou questa serata all'interno della piazza affidato a un momento musicale con una storica band che ha percorso ha diciamo suonato nelle migliori piazze isolane portando in giro quelle che sono le canzoni più belle delle varie epoche musicali in un percorso in un escursus musicale che si chiama i migliori anni ancora più forte lo stabiliamo questo contatto stasera allora abbiamo iniziato alla grande con la scuola di ballo new dance che volevo fare un altro applauso sono delle belle ragazze delle belle signore che si mettono in gioco hanno il ballo nelle parere qui con le nostre non dimenticate ma non saremo stati neanche quando diremo ancora non al prossimo le scadinate su le manini le scadinate così vai alla mia sinistra su le mani hey su le manini le scadinate su le manini le scadinate su le mani le scadinate su le mani su le manini le scadinate su le mani hey Grazie a tutti. Scusa, non ne mannare musica, fermo. Il maestro riesce a fare un po' di... Come dice, a me lo calca, boom, e sta su, vai. Caruso, poi ci devi sentire però. Che ha pensato? Mi so, dai, mi serata, forza, vai. Pronti? Falla, signori. Signore e signori, direttamente da Catania, con furore, arriva a San Giovanni Montebello. Lui, Carmelo, Cacamo! Buonasera! Vengo, bravo! ... ... ... Grazie a tutti. E non c'è alcuna esitazione finalmente dentro di me, nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione. E noi siamo la sola direzione in questo universo che si muove. Buonasera! 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 Ma signora Sardina, ma la trovo sempre in forma. Gioia, no, perché 80 anni non lo devi fare più, ma ancora mi ha filo. Ma veramente? Ma è buona la cotta, ma è buona. Vero? Ah no? Che ti pare? E ci disse Pippo! Pippo, Pippo! Pippo che persi abbiamo! E lui? E ci disse, Sardina abbiamo! Che cosa? Il piegato! Che cosa? Mi chiamo Sardina e mi so con un vicetto ogni mattina! Grazie a tutti